Di servizio da rivedere. Parliamo del parcheggiapagamento circostante l'edicola di piazza 40 Martiri, da sempre funzionante con gettone d'ingresso da pagare poi all'uscita con doppia sbarra automatica a regolare l'accesso. Ora, causa malfunzionamento, per causa ancora in fase di accertamento, le sbarre sono da giorni ambedue alzate e l'unica modalità di saldare il conto della sosta resta quella di affidarsi al parcometro, che accetta però solo monete e non carte o contanti. Questo senza tralasciare che anche dal punto di vista logistico, un conto è avere il gettone d'uscita ed un altro è regolarsi con la fascia oraria del parcometro, per chi parcheggia l'auto per alto nella piazza centrale Eugubina, cuore delle casette di Gubbio Città del Natale ed innanzi la ruota panoramica abbracciati dall'albero più grande del mondo. Un malfunzionamento e un disservizio che perdura dai giorni antecedenti il Natale e che chi gestisce il parcheggio avrebbe dovuto riallineare soprattutto in periodi di forte presenza turistica. Sì, perché già dalla settimana antecedente il 25 dicembre, ma soprattutto tra Natale e Capodanno, la presenza turistica a Gubbio è stata davvero importante, con la città che sta affrontando ora la parte finale delle festività natalizie, con una buona efficienza e soddisfazione per quanto riguarda i servizi e le infrastrutture messi a disposizione di cittadini e visitatori. Sold out in serie, strutture, attività ricettive, ristoranti e da rimarcare la massiccia presenza di camperisti per la soddisfazione del presidente del camper club Gubbio, Raffaello Di Benedetto. È stato un risultato ottimo, anche oggi siamo pieni, stanno partendo e ci aspettiamo i prossimi giorni, fino al giorno della Befana, di riempire l'area e dare afflusso ai turisti nella nostra città. Ottimo è stato il coordinamento anche con le istituzioni che hanno messo a disposizione dei camperisti una navetta per tutti i giorni delle festività.